Ragazzi notizia di qualche ora Intanto ciao a tutti Sono Mario G10 Bentornati e benvenuti In questo nuovissimo video vlog Qua sul mio canale Stavo dicendo ragazzi notizia di qualche ora Tanasi Kosovan Che non so se si pronuncia così Giocatore classe 95 Classe appunto Del 1995 Giocatore di nazionalità ucraina O ucraina E' ufficialmente Il primo acquisto del Trapani E' ufficialmente il primo acquisto del Trapani Perché quello di Lorenzo Mangiamelli Non è stato ancora ufficializzato Però se proprio dobbiamo dire Dilla tutta Il secondo acquisto del Trapani Per la prossima stagione In questo calciomercato Dopo quello di Lorenzo Mangiamelli Tramite gol Sicilia Era uscita una notizia Circa dieci ore fa Che diceva che il Trapani Aveva avviato una trattativa Con appunto Tanasi Kosovan E appunto E' arrivata L'ufficialità Tramite una foto Nella quale il giocatore Il neo giocatore Granata Aveva una sciarpa E' appunto E' stata condivisa Sui canali social del Trapani Prima su Instagram Poi anche su Facebook Ed ecco Oramai E' spopolato Che appunto Tanasi Kosovan E' un nuovo giocatore Del Trapani Ma io ragazzi Vi invito a lasciare un bel mi piace E un bel commento E' iscrivetevi al canale Ovviamente Ma prima di tutto Andiamo a leggere un po' Questo Ecco Le qualità Le doti Di questo neo acquisto Del Trapani E dove giocava Ovviamente Prima di Approdare al Trapani Ucraino Ragazzi Classe Come vi dicevo prima Delle 1995 E' un centrocampista Cresciuto Nel Nel settore giovanile Delle Vicenza Con cui Esortisce In prima squadra In Serie C Nella stagione Invece 13-14 Dopo l'esperienza Alvarez Vince un campionato Indy Con la Lupa Che non so che squadra Sia Con la Lupa Castelli Non è nuovo All'esperienza In Sicilia Infatti Tra il 2017 E il 2019 Ha giocato Nel Gera E nella Igea Virtus Ha giocato anche Nel Picerno Cavese E Casertana Nelle ultime Stagioni Ha giocato appunto Nella Cavese E nella Casertana E appunto Queste ultime Nel corso Della Passata Stagione Appunto Come Io sto leggendo Le notizie Tramite Il sito ufficiale Del Trapani Appunto Come ha detto Lui appunto Credo in un'intervista Ha detto che Sono un giocatore Versatile Offensivo In grado Di ricoprire Più ruoli A centrocampo E anche In attacco Quindi a quanto È stato detto Credo che Se manchi Un esterno Comunque lui Credo Ha come si definisce Sia In grado Di ricoprire Il centrocampo Che l'attacco Credo Possa ricoprire In caso Magari manchi Qualche Attaccante Il ruolo Di attaccante Tanta corsa Forza Impegno A disposizione Del Trapani Che sta nascendo Ha detto Appunto In questa intervista Che ha scelto Trapani Perché Una piazza Che vuole Ritornare in alto E che ha voglia Di giocare Un grande Campionato Ci sono tutti I presupposti Per far bene Ho avuto la fortuna Di trovare Tutte le circostanze Favorevoli Conosco la città Visto che Ha detto Che Mia moglie La sua ragazza Siciliana Appunto Vive A Trapani Quindi Questo qui ragazzi È il neo Giocatore Del Trapani Si tratta Di Vi lascio Una foto Qui Del neo Giocatore Granato Appunto Quella che È spopolata Sui social E hanno visto Ormai tutti I tifosi E appassionati Granato Che adesso La possiamo Togliere E io ragazzi Spero che Questo video Vi sia Piaciuto Vi raccomando Se fosse così Lasciate un bene Mi piace Ed iscrivetevi Al canale Quindi ragazzi Facendo un breve RECAP Il Trapani Per ora Da quanto Io ho visto C'è la San Cataldese Che ha fatto Molti acquisti Il Lamez Ha fatto Molti acquisti Insomma Tutte le squadre Serie D Si stanno muovendo E noi per ora Abbiamo fatto Solo due acquisti Cioè Appunto Tanasi Cosone Centrocampista E Lorenzo Mangiomedi Terzino Di difesa E Ci stiamo cominciando E camuovere Anche noi Un po' Veritario Rispetto alle altre squadre Che già hanno acquistato Un po' Di più Però ci stiamo Muovendo Sul mercato Ragazzi Appunto Spero che cosa vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E noi ragazzi Ci rivediamo Ad un prossimo Video Ciao Ciao